Capodanno a teatro, Gabriele Valentini e il suo Il Silenzio Grande per festeggiare la fine dell'anno e l'inizio del nuovo in teatro. Benvenuti in questa nuova puntata di Proscenio, il podcast della nuova Accademia degli Arrischianti che incontrerà tutti i protagonisti della nostra nuova stagione 2023-2024. Oggi siamo qui con Gabriele. L'ospite è appunto Gabriele Valentini, già uno dei protagonisti dei nostri registi della nuova Accademia degli Arrischianti che abbiamo visto per l'ultima volta quest'estate al Castello di Sarteano con Montecchi e Capuleti. Ti diremo benvenuto ma probabilmente sei te che devi dire benvenuti a noi perché passerai più tempo di noi in questo teatro. Quindi ti salutiamo, ciao Gabriele. Ciao, grazie a voi, grazie a tutti. Allora, partiamo subito con la domanda che ormai abbiamo fatto nella puntata 0 e anche nella puntata 1 che è dove nasce questo spettacolo, ossia Il Silenzio Grande? Allora, dove nasce? Nasce dalla penna di un autore che è Maurizio Di Giovanni. Dove nasce invece l'idea di farlo? Nasce al cinema perché questo è un testo teatrale dal quale è stato tratto anche un film. Quindi guardando questo film al cinema ho trovato molto teatrale la storia e sono andato a cercare e in effetti veniva da un testo teatrale di Maurizio Di Giovanni, come ho detto. Ho fatto un piccolo adattamento ma nemmeno più di tanto e lì appunto è nata l'idea. Come ho visto gli attori sullo schermo che recitavano, ho pensato che mi sarebbe piaciuto vederli dal vivo recitare questa storia. E diciamo del testo cosa ti è piaciuto e come pensi che questo spettacolo possa essere attuale e diciamo oltrepassare lo schermo e cosa vorresti che passasse al pubblico? Ecco, qual è il messaggio? Allora, la cosa che a me ha colpito di questo spettacolo, di questo testo, quando poi sono andata a leggerlo, era questa cifra. Mi sembrava a un certo punto di leggere un testo di De Filippo, però molto più moderno e più contemporaneo. Quindi come avessero preso De Filippo e l'avessero trasportato al giorno d'oggi. Questa è una caratteristica che nel testo si sente molto. È una storia attuale ma ha delle cadenze, delle sonorità che sono del teatro classico italiano. Grazie. Allora, noi abbiamo intanto sbirciato la locandina, che non so se a questo punto sarà uscita. Comunque, abbiamo letto dei nomi che sono ormai conosciuti qui a Sarteano. Insomma, Fenati, Belvisi, Dispenza, Poliziani. E ti volevamo chiedere se vedendo appunto il film e poi leggendo il testo, ti sono venuti subito in mente questi attori? E insomma, in generale, com'è il processo di scelta degli attori per uno spettacolo? Beh sì, c'è anche Rui tra gli attori che hai citato. Sì, allora, alcuni mi sono venuti subito in mente come leggevo quello che questi personaggi dicevano, avrebbero detto. Alcuni mi sono venuti subito in mente. Altri mi sono venuti in mente in seconda istanza, ma semplicemente perché questo è un testo che ha bisogno di attori con determinate caratteristiche. Quindi ecco, magari sono riflettuto un po' di più sulla scelta rispetto magari ad altri spettacoli, perché avevo bisogno di alcune caratteristiche attoriali proprio. Vuoi farci un esempio? Allora, al di là della questione proprio anagrafica, perché comunque la storia di una famiglia, quindi avevi comunque necessità di differenziare l'età e che fossero credibili il padre, il figlio fossero, insomma, perlomeno in linea visivamente. E poi è un testo che si basa molto su quello che viene detto. E' la storia di questo scrittore chiuso dentro al suo studio, nel quale si avvicendano tutti gli altri componenti della famiglia. Ognuno a raccontargli, a dirgli le proprie cose. E quindi loro parlano molto, ma parlano con varie sfumature. Quindi ecco, avevo bisogno di attori che potessero coprire più di una sfumatura, perché è veramente un testo interessante da quel punto di vista. Ed effettivamente sono chiaramente grandi attori, quindi siamo curiosi, insomma, di vedere queste varie sfumature. Vediamo che cosa è uscito fuori, va bene. E a proposito di sfumature, abbiamo visto che le locandine sono state stampate in colori diversi. E c'è un motivo dietro a questa scelta? Beh, sì, questa è un'idea che mi è venuta in fase di progettazione di locandine, perché volevo, ad ogni personaggio volevo affibbiare, volevo dare un colore, che raccontasse un po' una delle sfumature di quel personaggio. Infatti ci sono cinque colorazioni diverse, perché abbiamo i componenti della famiglia più la cameriera. E ogni personaggio ha veramente una caratteristica particolare. E quindi mi piaceva sottolinearlo con, già nella fase della pubblicità, già nella fase della comunicazione, già comunicare questa cosa. Poi sono cose che spesso si fanno e che magari forse non vengono nemmeno lette. O vengono lette in un altro modo, ma comunque va bene. Però ecco, la motivazione principale è stata quella. Poi vediamo, ognuno poi ci trae quello che vuole. Ok, quindi dare sfumature diverse, diciamo. Allora, noi sappiamo che appunto lo spettacolo sarà a partire dal 29, quindi saranno più repliche. E anche questa non è una novità, quindi sicuramente nella vita del regista ci saranno stati spettacoli con molte repliche. E cosa ti aspetti dal primo spettacolo, dalla prima sera? E quale pensi che sia la serata più carica di tensione e quella più difficile, diciamo, dal punto di vista degli attori, ma anche dal tuo punto di vista? Beh, allora, dal mio punto di vista, il lavoro del regista finisce alla prova generale. Cioè, una volta arrivati lì, il regista consegna agli attori il lavoro che è stato fatto e poi fanno loro. Il fatto di fare più repliche e farle così consecutive, perché noi siamo in scena il 29, il 30, il 31 e il 2 di gennaio, dà l'opportunità anche di rodare uno spettacolo. Quindi, non so, cioè, ogni replica, secondo me, ha una caratteristica precisa. La prima è il debutto, ovviamente. La seconda, per gli attori, è solitamente quella più difficile. Perché se è andata bene la prima, si rilassano. E quindi ci sono più pericoli in agguato. La terza, ovviamente, è quella dove uno comincia a prendere le misure. La quarta, uno rischia di rilassarsi troppo e forse c'è. Quindi, non credo che ci sia una replica che porta più tensione di un'altra. Sono delle tensioni diverse, differenti. Ecco, magari il tuo lavoro è quello di, non lo so, anche di cercare di mantenere l'umore degli attori non troppo rilassato, ma di fargli notare che magari una sera hanno sbagliato questo, quindi non vi rilassate troppo. Io mi diverto molto con gli attori a fare le scommesse. Si vede un po' l'attore che sbaglierà qualcosa. Lo riconosci perché è comunque, lo vedi o troppo rilassato o troppo nervoso, perché gli estremi comunque fanno male. Quindi, diciamo che ho questa abitudine di fare le scommesse e solitamente la frase che dico è che non scommetto mai se non sono sicuro di vincere. Quindi scommetto su chi sbaglia. Questo mi hanno detto che reca un po' di ansia. E di solito però indovini, quindi forse è quello che... Di solito scommetto solo se sono convinto di vincere. Posso fare la domanda scomoda? Lo so che è presto, ma magari hai già una scommessa... No, no, adesso no, è presto. No, no, adesso no. Va bene. Io le scommesse le faccio poco prima di entrare in scena. Peggio, così è proprio ansiogeno al massimo. Dal mio punto di vista è più divertente. Allora direi che passiamo a un'altra delle nostre domande di rito, perché ormai la terza è tradizione. E noi chiediamo sempre di portare un oggetto di scena che rappresenti te, rappresenti lo spettacolo o entrambi. Quindi insomma se ci vuoi raccontare qualcosa per i nostri ascoltatori che però ci vedono anche abbiamo qui una pila di libri. Io ho portato dei libri infatti. Sono vari libri, non sono molto importanti quelli anche se alcuni nello spettacolo sono importanti, vengono citati. Ma ho portato dei libri appunto perché la storia è tutta ambientata dentro a questo studio, questo studio di questo scrittore. E è un po' ossessionato dai libri. È comunque una persona ossessionata nel senso positivo del termine che ricerca le proprie esperienze tutte tra le pagine. Infatti c'è una battuta che fa Bettina, che è la cameriera, interpretata da Maria Pinaruiu. di cui i due discutono e lei dice ma pensi che quello che si debba sapere sta tutto scritto nei libri? E questa è un po' la domanda iniziale. Ovviamente il personaggio ha anche poi questa caratteristica che sistema questa libreria a seconda degli argomenti con un proprio criterio che nessuno sa e mette in basso i libri divertenti. Perché così dice quando uno è triste che tende ad abbassare lo sguardo vede un libro divertente, se lo ricorda e gli cambia subito umore. Quindi ho portato questi libri per indicare un po' questa cosa. C'è un tuo libro divertente, tra virgolette, tra questi? Un mio libro della vita divertente? Beh, è un libro che ho trovato molto divertente, che trovo molto divertente, è un libro di Carlo De Amicis, che si chiama Amor Tavor. È un libro molto divertente perché, sebbene è una storia tragica, ma lui parte dal presupposto che l'amore assomiglia al Tavor, ha le stesse controindicazioni del Tavor. Con questo input inizia la storia molto divertente. Quello è un libro molto divertente. Bene, grazie. Allora, quindi probabilmente rivedremo anche questi libri in scena. e una domanda che va al di fuori di questo spettacolo, ma che spesso viene fatta ai registi, è quanto tempo ci vuole per montare uno spettacolo, come organizzi le prove anche con gli attori in base ai diversi impegni. Insomma, le prove saranno in corso d'opera, quindi ancora non siamo arrivati al termine delle prove, però sicuramente sarete a un buon punto, ecco. Beh, allora, sì, siamo a un buon punto, anche se non lo si è mai, insomma, poi fondamentalmente. Ma, no, le prove, allora, a seconda della realtà dove operi, quando lavori con non professionisti, ovviamente le prove si dilungano un po', perché devi tener conto degli impegni di tutti, e di altri impegni. Quando formi una formazione, gioco di parole, più professionista, allora ti puoi dedicare, poi a seconda del testo, su palco puoi provare anche 15 giorni, di fila, sono proprio diverse le modalità. A me piace lavorare una volta che scopro un testo che voglio fare con le persone, seguendo anche proprio i tempi di queste persone. Al di là degli impegni, proprio parlo dei tempi emotivi di una persona che ha, a me ci vuole meno che a te, ad avvicinarti a un testo, o viceversa. Quindi ecco, seguo, non ho uno schema preciso, seguo un po', cambio a seconda delle persone con le quali collaboro. Quindi diciamo, va un po' in base allo spettacolo e alle persone appunto. Bene, noi ti ringraziamo, penso che siamo arrivati un po' alla fine. Invitiamo ovviamente i nostri ascoltatori a venire a vedere lo spettacolo, che sarà appunto il 29, il 30 e il 2 gennaio, alle 21 e 30, mentre alle 22 la sera del 31, e ovviamente poi per seguire con i festeggiamenti di Capodanno. Ti ringraziamo. A proposito di ringraziamenti, vogliamo ringraziare anche Elio Fortunato per il logo del nostro podcast, per questa puntata. Niente, grazie Gabri, e noi vi lasciamo alla prossima puntata di Proscenio. Un saluto da Martina, Vittoria, e Gabriele. Ciao! Proscenio, il podcast della nuova Accademia degli Arrischianti.